Per fatto personale, perché sono stata tirata in ballo da Saiello che ha fatto riferimento per la questione dell'ordine del giorno da me presentato nella giornata di ieri a Becere Strumentalizzazioni, sono stufa e non ci sto a essere apostrofata con questi termini. Sono stufa di essere trattata come se il Movimento 5 Stelle fosse scienza infusa e noi fossimo dei parolai con l'anello al naso. Questo me lo dovete consentire adesso. Non posso tollerare che Saiello venga a dire in un video che ha lanciato stamattina una serie di menzogne e di calugne che posso smentire puntualmente e devo farlo in pubblica assemblea. La proposta di legge che è stata presentata per Ischia, mi riferisco solo ed esclusivamente a questo, è Sarobrene. È stata presentata una da 5 Stelle e ne è stata presentata un'altra, contrariamente a quello che dice Saiello, a firma di Maria Grazia di Scala, Armando Cesaro e Severino Nappi in data 2 novembre 2017. Non ero certo intenta a spalmarmi la crema solare, caro Saiello. La crema solare che io utilizzo, che è questa, Saiello, è ferma al 20 agosto del 2017. Io da quell'epoca all'acqua di mare me la sono dimenticata. Sei tu che stai facendo strumentalizzazioni? No, non ce l'ho io. E mi dispiace che proprio tu utilizzi questi testi. Scusate, continuiamoci all'ordine del giorno, d'accordo. Questo è il bilancio, Chiere? Bene, è fatto personale, se ne è fatto menzione adesso, Presidente. C'erano degli emendamenti su Ischia che ho proposto anche io, così come il governo 5 Stelle, quegli emendamenti deve fare un provvedimento ad hoc. Lo faccia, li ha fatti dichiarare inammissibili venendo meno ai patti che aveva assunto con Forza Italia e con il Partito Democratico. Non ci vengano a dire menzogne. No, sto parlando di fatto personale, è diverso. Consigliera di Scala, un attimo, Saiello si calmi e si sieda. Un attimo, e io sto parlando. Posso parlare? Certo. Hai parlato degli emendamenti presentati a collegato, lo sto facendo anche io. Vi ho presentati anche io, Saiello, non solo tu, perché tu hai parlato del merito degli emendamenti. Non mi pare. Tu hai parlato di becero a strumentalizzazione, io ti sto rispondendo su questo punto. È stato grave che il governo nazionale non abbia compreso nel decreto approvato per le aree terremotate Ischia. Non voglio esagerare i toni, non voglio dire niente, è stato un grave errore politico. Ischia andava compresa nel decreto nazionale convertito dal governo. Sono stati presentati emendamenti da varie forze politiche, sono stati respini. È stato un errore gravissimo che noi denunciavamo. Mi apperfitto per esprimere alla collega di Scala la mia solidarietà e il mio rispetto. Esprimo alla collega di Scala la mia solidarietà e il mio rispetto perché ritengo che la politica appartenga a una generazione per la quale contano i valori umani permanenti, non la politica e le chiacchiere che ci raccontiamo. Conta la capacità di guardarsi negli occhi e di rispettarsi al di là della politica. Se no la politica non conta niente, non vale niente se perde l'aggancio con questi valori. Grazie. Grazie.